...e una manifestazione che ha proprio la volontà, vuole avere proprio la volontà di far prendere intanto coscienza la cittadinanza del bene che è proprio del proprio territorio, delle conoscenze e della storia del proprio territorio, ma poi anche quindi pubblicizzare questo territorio, Gorgardina, che pochi conoscono. Si fa una manifestazione nel 5-6 agosto dove circa 300 figuranti, tutti i cittadini, centrici cittadini dei Dome, si restavano nelle vesti proprio nei bagni di romani e fanno vivere le chiuse, le attitudini del periodo. Ecco qua abbiamo un punto, in questo momento, un parco di fotografia, in questo momento, in questo momento, proprio vedete, alla statua, la venere, che è stata proprio provocata, proprio da subalzare, ed è un spesso fotografia risale proprio nel periodo in cui c'è stata la manifestazione del libro del venere. Qua abbiamo questi soldati, altri attori, cercano di far conoscere il sito archeologico, in modo che... E qua abbiamo questi soldati, che sono molto belle, queste fotografie, che ci permettono anche un po' di ritornare, di far voler vedere un pochino di più questa terra, questo territorio, Gorgardina, che per tanti anni è stato dimenticato e fermato. Grazie.